Hai mai pensato che la tecnologia digitale e la rete possano rappresentare la soluzione a ciò che finora ti ha impedito di realizzare il tuo sogno di imparare a suonare la batteria? Ciao sono Ruggero e ti do il benvenuto al canale YouTube di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. Io aiuto i batteristi a migliorare, ad arricchire la loro performance guidandoli all'autoapprendimento. In particolare mi preoccupo di risolvere i loro problemi legati soprattutto alla difficoltà di formazione musicale. Mi riferisco in particolare a situazioni di svantaggio che però oggi si possono risolvere. Alcuni di questi svantaggi potrebbero essere rappresentati da una posizione geografica, a difficoltà economiche, mancanza di tempo o avere difficoltà a trovare la strategia giusta di apprendimento adatta a lui. Ho intrapreso questa strada perché anche io provengo da una situazione geografica di svantaggio. I miei problemi di formazione dell'epoca purtroppo erano risolvibili in un solo modo, aspettare la maturità e trasferirmi in una grande città dove avrei potuto frequentare una scuola di alto livello, dove insegnavano professionisti di alto livello. Ho dovuto aspettare 10 anni e sudare 7 camicie per convincere la mia famiglia che la soluzione migliore per me sarebbe stata quella di trasferirmi a Milano. Quindi oggi la mia missione è condividere con più persone possibili queste mie esperienze, soprattutto con chi non può permettersi il mio privilegio. Ora lascia che risponda alla domanda iniziale, quella che riguarda la soluzione per realizzare il tuo sogno. Oggi la tecnologia digitale e la rete ci mettono a disposizione la possibilità di fare lezioni in diretta streaming, anche collettive e interattive. E in più posso anche mettere a disposizione tutta la mia conoscenza attraverso una serie di videocorsi. Questo è il portale The Drum Booster, una collezione di videocorsi dove io ho messo a disposizione tutte le mie conoscenze. Poi c'è Pocket Drum Booster, che è il portale interattivo attraverso il quale tu potrai partecipare alle lezioni in diretta interattive senza spostarti da casa tua. Quindi adesso devi fare una cosa molto semplice. Iscriviti a questo canale YouTube e attiva la campanella delle notifiche in modo che sarai avvertito ogni volta che io pubblicherò un nuovo video. In questo modo potrai unirti alla mia grande community e ricevere giornalmente contenuti di altissimo valore. Per cui non aspettare ancora, è un'azione molto semplice. Clicca sul tasto iscriviti e attiva la campanella. Io adesso ti saluto e ci vediamo all'interno del canale che è già strapieno di contenuti molto utili e interessanti. Un abbraccione da Ruggero e ricordati, studia più intelligentemente e non più duramente. Alla prossima!